Ciao a tutti ragazzi e benvenuti all'interno di questo nuovo video. All'interno del video di oggi vi vado a spiegare come potete andare a migrare una vostra installazione WordPress sia che avete creato insomma il vostro sito web in locale oppure su un servizio di hosting che volete cambiare e vi faccio vedere proprio come potete andare a migrare oppure a trasferire il vostro sito web da un servizio ad un altro. Quindi ancora sia che voi abbiate realizzato il vostro sito in locale oppure su un'altra azienda di hosting vi faccio vedere come potete spostare il vostro sito web presso un nuovo provider. Naturalmente ragazzi se questa è la prima volta che vedete uno dei miei tutorial io mi chiamo Roberto Marchesini e sono il fondatore di assistenza WordPress ovvero un sito web dove io insieme al mio team aiutiamo soprattutto aziende e professionisti a crearsi e gestirsi il proprio sito web utilizzando appunto WordPress. Ovviamente lavorando ogni singolo giorno con clienti negli anni abbiamo avuto modo di trasferire da vario tantissimi e tantissimi siti web comunque all'interno di questo tutorial vi spiegherò passo passo come potete trasferire il vostro sito web andando ad utilizzare un plugin. Ora di plugin che vi permettono di fare questo ne esistono davvero molti diciamo che nella versione gratuita per la maggior parte dei casi vi permettono di andare a trasferire un sito di piccole dimensioni e per piccole dimensioni parlo diciamo di meno di 500 megabyte quindi se il vostro sito supera i 500 megabyte magari vi invito ad andare sul nostro canale YouTube e cercare ad esempio come trasferire WordPress manualmente perché se andate a trasferire WordPress in modo manuale tramite la procedura step by step che vi spiego all'interno di quel video allora potrete andare a trasferire qualsiasi sito web di qualsiasi dimensione quindi se siete interessati andate a vedervi quel video tuttavia se non siete insomma molto pratici per quanto riguarda queste cose vi consiglio di andare ad utilizzare il plugin che vi faccio vedere all'interno di questo video se anche voi avete un sito web di piccole dimensioni ancora come detto meno di 500 megabyte detto questo se mi seguite da un po' di tempo sapete che a me piace fare dei tutorial molto molto pratici quindi direi di passare sul mio pc che vi faccio vedere una breve diciamo panoramica del plugin di oggi ma poi lo vado anche ad installare su una mia installazione WordPress quindi un sito demo che ho preparato appositamente per registrare questo video e andrò a trasferire il sito web appunto da un servizio ad un altro quindi vi faccio vedere tutta la procedura step by step quindi direi che per questa introduzione ho parlato abbastanza passiamo subito alla parte pratica che vediamo come potete andare a trasferire il vostro sito web bene ragazzi allora come vi dicevo poco fa esistono diversi plugin che vi permettono di andare a migrare la vostra installazione WordPress all'interno di questo tutorial andremo ad utilizzare il plugin All-in-One WP Migration perché è il plugin che è stato sviluppato da più tempo ed è anche il plugin insomma più utilizzato infatti vedete che ha superato la versione 7 l'ultimo aggiornamento è stato effettuato tre settimane fa ed è stato installato su oltre 4 milioni di installazioni WordPress e anche per quanto riguarda insomma le recensioni hanno ricevuto molte recensioni positive anche in questo caso comunque dipende dal plugin ma tutti i plugin nella versione gratuita hanno delle limitazioni ad ogni modo esistono altri plugin che vi permettono di fare questo giusto per citarne alcuni c'è ad esempio il plugin duplicator anch'esso insomma un plugin abbastanza famoso installato su oltre un milione di installazioni WordPress e poi ad esempio c'è anche il plugin Updraft Plus che se avete acquistato la versione a pagamento vi permette di andare a migrare anche la vostra installazione WordPress infatti come vedete Updraft Plus Premium vi permette di andare a duplicare e andare a migrare i vostri siti web utilizzando appunto la versione a pagamento dei plugin la versione gratuita non vi permette di fare questo e come vi dicevo andiamo ad utilizzare il plugin All-in-One WP Migration per andare a trasferire il nostro sito web ora se dovete ancora andare ad acquistare il vostro dominio e hosting per andare a trasferire il vostro sito web piccola parentesi noi di assistenza WP vi mettiamo a disposizione insomma la possibilità di acquistare il dominio e hosting direttamente da noi infatti se andate all'interno del nostro sito web molto velocemente e andate qui su hosting praticamente questi sono i piani di hosting che vi mettiamo a disposizione e se scegliete un dominio .it è gratuito per il primo anno ad ogni modo questi qui sono i piani tra cui potete scegliere ovviamente cliccando su prosegui comunque poi potrete andare a scegliere anche il vostro dominio e ovviamente anche andare a selezionare la voce voglio trasferire un dominio da un altro registrar se volete avere dominio e hosting direttamente all'interno del nostro server in modo tale che riceverete supporto da esperti WordPress che siamo insomma presenti sul mercato da diversi anni chiusa questa parentesi adesso ragazzi comunque trovate sempre il link dei nostri servizi qui sotto in descrizione il sito che voglio andare a duplicare è praticamente questo qui ovvero un nostro sito demo che si trova su assistenza.wponline.eu ecco qua il sito web è semplicemente un layout demo che mi sono importato su una nuova installazione WordPress che ho preso insomma da un altro tutorial che ho realizzato sempre su YouTube vi faccio vedere molto velocemente le pagine giusto per farvi vedere che questo è comunque un sito web completo andiamo anche sulla pagina dei servizi ok quindi come vedete insomma il sito si presenta molto pulito ma comunque molto professionale come vedete c'è anche un modulo di contatto così via quindi insomma il sito che andremo a trasferire si trova su questo dominio adesso vado praticamente sul back end di WordPress ad ogni modo il sito che voglio andare a trasferirmi lo voglio andare a trasferire in locale infatti adesso qui come vedete siamo su localhost.wp ovvero se vi faccio vedere qui all'interno del mio pc adesso sono all'interno di questa cartella e questa qui praticamente sarebbe la mia installazione WordPress infatti adesso se molto velocemente vado a rinominare questo file e vado a ricaricare praticamente questa pagina vedete che adesso il sito web non funziona più correttamente questo ovviamente perché sono andato a rinominarmi questo file ad ogni modo come vi dicevo adesso andiamo a trasferire il sito web dal nostro server quindi il dominio assistenza wponline.eu adesso andiamo a visitare ovviamente il back end di questo sito al mio sito che è in locale quindi innanzitutto vado ad effettuare il login sul mio sito che voglio andare a trasferire quindi adesso vado ad inserire le mie credenziali di accesso e poi il prossimo passaggio è quello di andare ad installarci il plugin all-in-one wp migration quindi semplicemente per comodità vado a copiarmi il nome del plugin torno sul sito che voglio andare a trasferirmi e ovviamente vado ad installare il plugin quindi plugin aggiungi nuovo sulla barra di ricerca qui in alto a destra vado semplicemente ad incollarmi il nome del plugin e naturalmente me lo vado ad installare e ad attivare mi raccomando all'interno del sito che voglio andare a trasferire bene arrivati a questo punto adesso vi è comparsa una nuova voce qui sulla barra laterale di wordpress andate a cliccare su questa nuova voce e praticamente adesso vi viene presentata appunto la pagina di esportazione del vostro sito come vedete quindi adesso qui ovviamente potete andare a decidere dove andare ad esportare il vostro backup ad ogni modo certe diciamo destinazioni sono a pagamento meglio richiedono la versione a pagamento del plugin infatti adesso se vado qui su mega come vedete è richiesta questa estensione se invece andate a selezionare file come vedete adesso il plugin sta andando a prepararci l'esportazione del nostro sito web quindi mi raccomando attendete che questo pop up insomma scompaia quindi attendiamo un attimo ed ecco qua che davvero in pochissimi istanti mi è stato creato praticamente un backup completo del mio sito ora vado a cliccare su questo bel pulsante grande per andare a scaricarmi la mia copia di backup sul mio computer che poi naturalmente andremo ad importare sul nostro sito che abbiamo in locale ovviamente comunque se voi state trasferendo il vostro sito da un hosting all'altro tranquillamente ovviamente andate a collegarvi sul nuovo servizio di hosting dove volete trasferire il vostro sito ovviamente andate ad installare una nuova installazione pulita di wordpress e poi vi faccio vedere come potete andare ad importarvi la copia che è stata generata dal plugin all in one wp migrator tramite appunto il sito che è sul vostro servizio di hosting attuale o magari insomma anche in locale se volete trasferire il vostro sito dal locale quindi dal vostro pc ad un server remoto benissimo ora che abbiamo scaricato il backup del nostro intero sito web naturalmente ora è arrivato il momento di andare all'interno della nuova installazione wordpress quindi dove vogliamo andare a trasferire il nostro sito web come detto vi consiglio di andare a crearvi una nuova installazione di wordpress e anche qui dovete andare praticamente su plugin aggiungi nuovo e andare sempre ad installarvi il plugin all in one wp migration quindi andiamo sempre a copiarci il nome del plugin vi faccio notare ancora una volta che adesso sono sulla mia installazione in locale quindi ancora all'interno di questa cartella quindi qui c'è la mia installazione di wordpress e sulla cartella downloads come vedete qui è stato scaricato il backup del mio sito web ancora quello che voglio andare a trasferirmi quindi dal mio sito in locale vado qui sulla barra di ricerca e andiamo sempre ad installarci il plugin all in one wp migration e ovviamente ce lo andiamo sempre ad attivare all'interno della nostra installazione wordpress quindi adesso aspettiamo un attimo che il plugin venga installato ed attivato su questa installazione wordpress e poi andremo ad importarci il backup che abbiamo effettuato in precedenza sempre utilizzando questo plugin quindi ora che il plugin è stato installato ed attivato ecco qua la nuova voce e andiamo qui su importa perché ovviamente adesso dobbiamo andare ad importarci la nostra copia di backup quindi praticamente adesso andate qui su importa da ovviamente andate a selezionare ovviamente la destinazione dove avete il vostro backup nel mio caso vado a selezionare file e vado a selezionarmi i file che ho appena scaricato e qui adesso come vedete il plugin sta andando ad importarsi il backup che abbiamo selezionato ora io sto lavorando in locale quindi insomma il backup ha fatto presto ad importarsi ad ogni modo il prossimo passaggio è quello di andare a sovrascrivere ovviamente i dati del database perché dobbiamo andare a sostituire il database attuale della nostra installazione wordpress che nel mio caso è in locale con il database del nostro sito che vogliamo andare ad importarci quindi qui ovviamente andiamo a cliccare su procedi e come vedete adesso praticamente si sta andando ad importare anche il database MySQL del nostro sito ed ecco qua che come vedete non ho messo in pausa il video il nostro sito web è stato importato correttamente ora semplicemente andiamo a cliccare qui su finito e adesso praticamente vi consiglio di andare ad esempio sulle bacheca del vostro sito web e come vedete adesso il sistema vi rifà effettuare insomma il login all'interno del vostro sito ovviamente qui mi raccomando andate ad inserire i dati del sito web che avete trasferito quindi il sito web che nel mio caso era situato su assistenza.wponline.eu quindi adesso vado ad inserire la mia password e andiamo ad effettuare l'accesso sulla nostra installazione wordpress se riuscirete anche voi ad effettuare insomma l'accesso sulla bacheca di wordpress ecco qua che siamo entrati significa che effettivamente insomma siamo riusciti a trasferire il nostro sito con successo per verificare ovviamente semplicemente andate a visitare il vostro sito web lato frontend ed ecco qua che come vedete adesso siamo qui in locale quindi sul mio pc e se scorro la pagina ecco qua che come vedete tutta l'home page si visualizza perfettamente esattamente come lo è sul sito che è all'interno del nostro server infatti adesso ve lo faccio vedere nuovamente ecco qua l'home page del sito che è all'interno del nostro spazio di hosting e questo qua è il sito che è in locale come vedete si è trasferito perfettamente proviamo ad andare anche sulla pagina about ecco qua che anche la pagina about si visualizza perfettamente come è qui in remoto adesso vi faccio vedere ok andiamo a vedere anche la pagina dei servizi come vedete anche questa pagina si visualizza perfettamente e infine la pagina dei contatti ecco qua che tutto è stato importato perfettamente all'interno della mia nuova installazione wordpress quindi siamo riusciti effettivamente insomma ad andare a trasferire il nostro sito web in questo caso da remoto a locale ad ogni modo questa procedura come vi ho fatto vedere vi può tornare di aiuto anche se dovete trasferire un sito da un servizio di hosting ad un altro giusto per farvi vedere insomma ancora una volta che il sito è stato trasferito con successo torno qui sulla mia cartella quindi del sito in locale andiamo ad esempio su wp content qui andiamo ad esempio su plugins mi porto magari la cartella qui sulla destra e il nostro sito qui sulla sinistra e se vado praticamente su plugin installati vedrete che tutti i plugin che vedete qui sulla cartella in locale sono gli stessi che troviamo sul nostro sito in locale infatti troviamo all in one wp migration come vedete e tutti gli altri plugin insomma che abbiamo installati all'interno del nostro sito quindi effettivamente insomma siamo riusciti a trasferire il nostro sito senza nessun problema ancora una volta provo ad esempio ad andare a rinominare il file wpconfig.php e adesso se vado a ricaricare la pagina ecco qua che come vedete siamo effettivamente insomma in locale quindi mi raccomando che se volete andare a trasferirvi il vostro sito web ancora una volta che è di dimensioni abbastanza ridotte perché i plugin insomma gratuiti hanno ovviamente delle limitazioni potete tranquillamente andare ad utilizzare il plugin che vi ho fatto vedere all'interno di questo video ragazzi come avete visto il plugin di oggi vi può tornare sicuramente di aiuto solamente se avete dei siti web di piccole dimensioni comunque come vi anticipavo all'inizio di questo video potete magari andare sul nostro canale youtube e cercare come trasferire sito wordpress manualmente se avete un sito web che supera i 500 megabyte di spazio in questo modo grazie a quei tutorial riuscirete anche voi ad andare a trasferire il vostro sito web anche se è di grandi dimensioni ad ogni modo se con questo video vi sono stato di aiuto vi chiedo quantomeno di lasciarmi un bel mi piace sotto al video e se avete ancora dubbi o domande su tutti i passaggi spiegati all'interno del video potete anche scrivermi il vostro commento utilizzando sempre il box che trovate qui sotto sappiate che io e il mio team leggiamo sempre tutti i vostri commenti e cerchiamo di fare sempre il possibile per rispondere a tutti detto questo ragazzi grazie mille insomma se siete arrivati a vedere la fine del video per me insomma conta davvero molto e spero ovviamente di esservi tornato di aiuto non mi resta altro che salutarvi ma noi naturalmente ci vediamo all'interno del prossimo video quindi ciao ragazzi e ci vediamo nel prossimo tutorial